Adesso avanti con Viva la Vida, dei Coldplay, interpretato da Patrick Chan, secondo posto. Abbiamo già detto con Franca Bianconi che le migliori transition sono proprio probabilmente al mondo di questo campione. Secondo me i migliori skating skills e le migliori transition assolutamente sono sue. Se poi vogliamo parlare del molleggio delle ginocchia anche, dell'interpretazione anche meglio di lui faceva forse solo Lambiel, credo che lui coglierà quell'eredità. Stasera gli atleti sono un pochino stanchi e entusiasti di pattinare, ogni tanto scivolano qua e là. Stasera gli atleti sono un pochino stanchi e un pochino stanchi e un pochino stanchi e un pochino stanchi. Stasera gli atleti sono un pochino stanchi e un pochino stanchi e un pochino stanchi e un pochino stanchi. Stasera gli atleti sono un pochino stanchi e un pochino stanchi e un pochino stanchi e un pochino stanchi. Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso c'è da fare la finale Dobbiamo fare... Grazie a tutti Grazie a tutti